Uomo del parcheggio, misterioso e labile Ok ragazzi, finalmente dopo incessanti richieste mi avete chiesto Miles Morales e io vi do Miles Morales Allora ragazzi, che cos'è questo gioco? Questo è Spider-Man per PS1 Gioco leggendario della PS1 che io ho bruciato Questo è un gioco molto molto particolare perché oltre ad essere il primo gioco di Spider-Man in 3D è un gioco se dovete fatto con una cura maniacale A qui per esempio c'è la sezione costumi dove praticamente potete ruotare l'uomo ragno e potete sostituire il costume Ne potete sbloccare altri a seconda di quello che completate nel gioco e vi danno determinate potenzialità Poi abbiamo la gallery con i personaggi protagonisti del gioco narrati da Stan Lee E piano piano più andate avanti col gioco più sbloccate i personaggi da poi guardare nella galleria Allora, new game Andiamo di hard, dai Non c'è l'italiano L'hanno fatto un casino con la trama L'hanno fusa Sono preso tanti numeri e l'hanno fusa insieme Un po' la serie animata un po' il fumetto Eddie Brock compare fin dall'inizio Cosa è a caso Cosa è un po' il L'ultima volta che ho scoperto Spiderman? Cosa fa? Deve andare in un costumino e prendere a questa impostora Non posso... Non posso... Non posso... Non posso... Non posso scoprire Jameson pagare un prezzo Voglio prendere questo tipo di pezzi a Spider-Man. Move! That was Eddie Brock. Chi era? Si sembra familiar. Whatever, stai fokussi, Brock. He... He's stealin' Octavius' device! Oh no! He sees me! My camera! Nooooo! Ah, è finito! È finito! I boo it again! I can hear Jameson's voice already. You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures inside the area! Let's go! He's simbionti a casa. I can't fight him anymore! Again, Innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Bellissima voce, tra l'altro, gli hanno dato a questo gioco. E se è la ultima cosa che mai facciamo, Jameson e l'Insect saranno pagare! Phase 1 completato. Tutto, Carnage! Ce l'ho messo tutto! E poi, per non far scendere Spider-Man nelle strade New York si sono inventati questo macchinario Dr. Octopus che fa circolare questa nebbia al giro per New York e quindi te non puoi scendere dai palazzi. Una specie nebbia venenosa che è verosa per Spider-Man. Ma quindi ha trucidato tutti gli abitanti in New York non si è capito c'è boh è tipo insetticidio sì però è tossico anche per New York ecco sta lì ovviamente troviamo il nostro hero Peter Parker meglio conosciuto all'uomo come l'amazingo Spider-Man in un po' di problemi ma questo è solo il primo obiettivo è prendere tutti i fumetti che sono il collezionabile del gioco molto difficile da trovare alcuni sono molto tricky bello perché gliela indica nella caudì la telecamera non la puoi girare segue Spider-Man cazzi tua quindi allora al difficile avete poche cartucce per le ragnatele quindi dovete tenervele dovete più che altro prendere a cazzotti nemici perché se sprecate le ragnatele è la fine però vedete alla fine è carino il sistema di arrampicamento secondo me ci sta allora vi faccio vedere come si usano le ragnatele col triangolo normale intrappolate gli omini che muoiono poi ci sono le ragnatele per potenziare i pugni lo scudo di ragnatele che scoppia e non mi ricordo però è meglio prendere le a cazzotti se no la fanno vedete al difficile subito ti fanno un culo pazzesco però bisogna scazzottare se no sprecate le ragnatele e non va bene fuori da coglioni l'ho buttato proprio giù dal palazzo attenzione vita ce l'ho al massimo si si senti il cazzato tra poco c'è il primo fumetto segreto bello sto chopper eliotili e la polizia distrutti per far un punto in banca così comunissili allora qua c'è il primo fumetto segreto che è sul palazzo dei fantastici 4 infatti se non era dovrebbe essere Amazing Spider-Man 1 aspetta la copertina di Amazing Fantasy 15 che era la prima apparizione dell'uomo ragno ma se andate nel menu ovviamente questi fumetti li potete consultare e vi dicono perché sono così importanti e dovrebbe essere Amazing Spider-Man 1 che è la prima apparizione dell'uomo ragno e chiaramente c'è anche una sorta non di team up però di incontro sconto con i fantastici 4 vabbè andiamo dentro la bank qua c'era già un segreto se non erro c'era un segreto per prendere l'armatura di Spider-Man che tra l'altro è un costume alternativo di Spider-Man e che vi salva il culo vi fa da armatura per un po' finché non ve la tolgano ovviamente non sarà facile da prendere perché vi dovete arrampicare eccola lì no forse sono cartucce sì una cartuccia vabbè male un fa qua ci sono tanti nemici bisogna stare attenti bisogna farla un po' stelt bisogna consumare anche un po' di ragnatelli se no ci massacra ecco esatto merda 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 morto madonna sei difficile quello non si è accorto ancora di me per ora no non voglio perdere cartucce eccole prima perché appena fai fare l'ultimo triggeri un firmatino e entri dentro la banca quindi a posto dentro la banca qui c'è un fumetto molto difficile il terzo il terzo è ancora più strozzo secondo me oh boy però le battute che fa sono ganzissime perfettamente in linea col personaggio di spider-man attenzione ragazzi perché qua dobbiamo yes c'era un modo per attaccarsi al soffitto che non ricordo che cazzo si faceva c'era un modo era R1 dunque qua ragazzi c'era un fumetto nascosto sotto una sedia ora vediamo se lo trovo a posto attenzione che ora entrano sono incazzati come beve perfetto oh god lui spider-man allora ora devo cercare quella sedia maledetta anche a cattucce sono messo bene solo che qua bisogna stare attenti raga sono milioni eccolo secondo fumetto trovato ragazzi adesso dritti verso la bomba perché ovviamente c'è una bomba gigantesca dentro a questa banca che bisogna assolutamente disinnescare oppure chissà ecco qua c'è il terzo fumetto che è veramente super tricky perché per disinnescare la bomba ok 9 perfetto per disinnescare la bomba devi buttarla dentro al cavo e farla esplodere lì dentro ora vi faccio vedere mette un minuto e die ah difficile un minuto e dieci per fare tutto ok bisogna muoversi ragazzi oh no 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 hanno ammazzato l'ostaggio bodol no mi hanno levato anche tutte le cartucce ma l'ostaggio che è diventato trasparente no ha sprecato i culi big safe perfetto i robberi hanno preso ma cosa posso fare sull'omba pensi spide pensi allora praticamente dovete buttarla dentro al cavo e poi chiudere per farla esplodere però prima di chiudere il cavo dovete tornare indietro un passettino all'altezza del metal detector e troverete il fumetto che compare solo quando buttate la bomba non so perché ma ecco sì il problema è che quando lanciate la bomba succede questo guardate che stronzi golden uff ma come si appende si appende al nulla ragazzi non fate domande ora qui c'è una roba assurda effettivamente devi inseguire vabbè ora vedete stai già messo il cappuccio via sparte ora il fumetto è tipo al lato di un palazzo ora bisogna vedere dov'è perché non me lo ricordo bene prima che scorpion arrivi da james devi finire il percorso quindi devi schippa tutti i nemici non ti devi fregare di un cazzo era al lato di un palazzo ma non mi ricordo quale forse è quello sì è quello forse aia eccolo lì muoversi muoversi eccolo il daily bugle ce l'abbiamo fatta ragazzi il quinto fumetto qui era assurdo praticamente nell'area del boss ci sono vari oggetti li devi distruggere tutti e solo quando hai distrutto l'ultimo oggetto presente nell'area ti sblocca il fumetto riasso un tune della strada di start mi ropra i coglioni però gli fai danno per muovere questo è l'unica vantaggio mi ricordo ancora il rumore di questo stronzo ovviamente sta cercando James sa che c'è l'ultimo che è questo lampadario questa lampada ecco è tipo scoppiato qualcosa e adesso nel mezzo all'aria ci dovrebbe essere il fumetto eccolo non ho molta vita però devo stare eh mi sa che mi ammazza c'era una seconda aria questo non me lo ricordavo vediamo se trovo un po' di vita magari in quest'area dai si ti prego rilevo un po' di vita così faccio un po' il pa oh oh morto ragnatele lo so un attimo raga al difficile vanno via che è una bellezza non posso spammare all'infinito sono finito finito ragnatele anche in questo gioco siete mega esperti di tutto tutto no dodo si ricaricano velocità assoluta di ricarica effettivamente incontrollabile quasi stop it target no god 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 science expo heist shoot him now shoot him jj you're out of the wheel i mean it this time eccolo oh Ma come? Allora diciamo che tu hai i tuoi super powers, e io ho i miei. Io spiegherò la parola della tua innocenza, non che ci aiuterà con i coppi. Buonanotte! Eh, quando avrei avuto? Stai guardando qui! Allora, ora c'è questo simpatico inseguimento. Aspettate! Non sono il peggio! Inseguimento pulizia tutte le forze di pulizia del mondo. C'è... Un po' troppo! Un po' meno! Mamma mia! Wolverine! Che vista Wolverine sul Channel 7? Ahia! Perchè semmo... Oh! Si è bloccato il pad, ragazzi. Che è successo? Il grave tuffo? Allora che botte mi danno! Mi pare c'era una gru negli intorni che nascondeva il rifugio di Hobgoblin. Ci trovavi l'armatura... E il fumetto. ... Ah, sapete dove cazzo era! Qua, qua! Qua, qua! È qua! Dov'è? No, è su un'altra gru! Non è questa la gru giusta! Madonna che palle! Eccola là! C'è un'altra gru! C'è un'altra gru! Speriamo salire! Gold! E adesso si prende anche il fumetto. Guarda che bella che cambia anche la caud... Qua c'è il segreto, sono sicuro, cento c'è. C'è sufficiente con la scuola già! Iron Man... Ah, Iron World Construction, ok. Construction. No, dove cazzo era il segreto? Era qua. No, ora lo perdo. Devo scendere. Eccolo lì! Eccolo, eccolo, eccolo! Dovevo scendere! Oddio! Oddio, oddio, oddio! Eccolo, 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 eccolo! Gold! Gold! Adesso, ragazzi! Ci dovrebbe... Buona santa! Ci dovrebbe essere un altro fumetto molto stronzo. Però non mi ricordo il punto. Gossip? New York in Panic? Ah, sì, 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 che c'è un mostro che infesta le foglie, che chiaramente è il nostro fratello Lizard. Ah, ora mi ricordo, eccolo lì. Allora, qua è stronzissimo, ragazzi. Allora, ora qui... Spaccano i vetri. Bisogna ammazzare questi stronzi. Merda! No, 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 ti prego! Ok, l'ho fatta. E poi tipo qua dietro... Non mi ricordo nitidamente. Cioè, voglio veramente. Come cazzo? Eh, si rivischianta! No, no, no. No, 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 no. Impac! Che cazzo il tranzo il missionsito? Mi non sta provando, volevo portare questo caso? No! Let's find out what Venom's up to, and then we'll tackle Rhino. The Venom Marathon continues on the biggest TV in New York. We're shouting out to the whole big rotten apple here, people. Sad thing is, he'll probably get us on a talk show after this. So, we've got this beautiful redhead. You know her. She's one of those famous spinbo's. We have decided that this poor little lassie has 24 hours to live. 24 hours. Oh, by the way, her name is Mary Jane Parker. No, Mary Jane? So, just in case someone... I don't know who it could be. If any of you tight wearing freaks out there want to save littleness fashion model, then bring it on! Meanwhile, New Yorkers, the Venom Marathon... ...un po' più Joker che Venom. Ragazzi, Venom nei fumetti era esattamente così. Soprattutto in Venom il Vendicatore c'ha questo animo... ...giunaresco. Molto anni 90. Va bene. Ora c'è il fumetto di Rhino che è semplicissimo, lo devi prendere. A proposito, però prima voglio fare una cosa. Vi voglio far vedere a che cosa serve prendere questi fumetti. Eccola qua. La Comic Collection. Praticamente voi... ...vedete? Ti spiega cosa succede nel fumetto, ti fa vedere la copertina. Insomma, ecco una roba divulgativa in realtà. E tutti hanno a che fare un po' con il luogo in cui li trovi, ecco. Molto figo, secondo me. E ora chiaramente, avendo incontrato molti personaggi in più rispetto all'inizio... ...abbiamo sbloccato, chiaramente, i personaggi nella galleria. Davvero la faccia di Rhino. Allora, qua c'era il trick, però prima devo ricordare dov'era il fumetto. Michi, al difficile si leva subito dal muro. Che queste robe non me le ricordavo. No! Concentriamoci. Rimasto, mi sa, in trappola. Sì, rimasto in trappola. Vabbè, con calma. No, non mi sa che si è sbloccato. Non si era buggato, eh. Hai visto cosa ha fatto per se sbuggassi? Guns. Guarda qua per la piazza. Wow! Oh, i tuoi orecchiano? Ecco il fumetto! Guarda qua per la piazza. Ok, adesso dovrebbe essere a pazzo. E infatti è quello lì. Guarda. Vieni qua? Amore? Qui? Rhino Burger è arrivato! Ehi, hai avuto la piazza? Guarda qua qua, amore, amore. Vai! Dentro lì? No! Merda! Fai in Kool-Aid. Oh, è avuto la piazza che si trattano? Ti prego, amore. Ti prego. Guarda! 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 Mmm, attenzione, complotto, complotto, complotto. Eppkart, aki aki, 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 aki. Peter, hajnos, mert nem, hogy van aki. Perfekt. Perfekt. Eccolo Piter in coio, non è totalmente Eccolo Eccolo che è stato un po' di problemi Hai trovato Venom Ma come? Venom è invisibile ai miei spideri Vedendo che il tuo successo, Venom troverà a te Hai credito, Spidey O' dove potrebbe essere? Ho bisogno di trovare Ho bisogno di trovare Ho bisogno di scuola Beh, beh, beh Quello uosso Ehi, vuoi correre? Parker Lo amare quando ho la scuola Lo amare quando ho la scuola Lo amare quando ho la scuola Allora, dai Qui ci sono due fumetti e non me li ricordo Molto bene Ah, uno era in cantiere L'altro non lo ricordo Mentre non lo devi mai perdere di vista Difficile va come le pazze Esatto Fine Qua è veramente difficile, ragazzi Eh, l'ho perso Qua ti fa anche i trabocchetti Tipo prima si sposta a sinistra Poi sulla destra Allora, qua c'è il fumetto Non mi ricordo Eccoci Qua però mi pare si ferma Per aspettarti e combattere un pochetto Ah no Fumetto Perfetto 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 Cosa sta facendo Spider Cosa Fermo Che fai Madonna Rincoglionito Fino Perfetto No, vi ha quitto, ragazzi Ser�ano Comiche Villare Perfetto 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 Perfetto